www.radiofreestation.com la prima web radio dedicata agli italiani nel mondo www.radiofreestation.com 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 Grazie a tutti. 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 Let me be who I am. 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 E si continuiamo questa scaletta di artisti emergenti, la scaletta del Nico Caputo Show che dà voce agli artisti emergenti. Continuiamo con Andrea Sina che ci fa ascoltare un suo pezzo scritto da lui, sia testo che musica, ma l'amore cos'è? Non chiedevo di più. come come, come I amore come l'amore come l'amore come, come le mangiare, come come l'amore. il suo fiore ma l'amore cos'è? è un sogno fatto di lacrime e se poi finirà per sempre senza dire niente tante le nuvole che ora piangono per me perché quello vero no non c'è non c'è è tutto sbagli in un istante cattivo che non vuole saperne più di un amore senza virtù ma una cosa anche rara che si fa straordinaria quando scrivo pensando a te è un ricordo irrelebile per non dimenticare ma l'amore cos'è? è un sogno fatto di lacrime e se poi finirà per sempre senza dire niente tante le nuvole che ora piangono per me perché quello vero non c'è non c'è non c'è non c'è la vita è un libido che può l'amore è un sogno che non finirà c'è un sogno che non finirà senza spazio senza tempo andrà ma l'amore cos'è? da un sogno fatto di lacrime e quando sai finirà per sempre senza dire niente tante le nuvole che ora piangono non c'è sembra l'amore non c'è non c'è non c'è l'amore applausi applausi per Andrea Andrea Sena bravo bravo questo artista cantautore e beh continuiamo la scaletta di quest'oggi martedì secondo martedì dell'anno di questo 2021 che tutti ci auguriamo che sia un anno veramente speciale e andiamo con Angela De Gregorio che ci fa ascoltare una canzone scritta anche da lei che lei è una cantautrice oltre ad essere una sociologa e ci fa ascoltare Ci sono persone buon ascolto a tutti su Radio Freestation Radio degli Italiani nel mondo Ci sono persone che non guardano gli occhi di nessuno ci sono persone che non guardano neanche al futuro ci sono persone che non riescono a scusarsi con coraggio ci sono persone che rinunciano a sogni e ambizioni ma allora che sto a fare qui non si può continuare con questa storia che non ha più fine siamo amati fidanzati forse amici o forse solo strane siamo amati fidanzati fidanzati forse amici o forse solo strane che ci sono persone che sono così superficiali ci sono persone che sono così poco onesti ci sono persone che credono l'amore sta per fuori ci sono persone che sono persone che sono brava e so tanto a giudicare ma allora che stai a fare qui con me che non riesco a capire come sei ancora adesso dopo tutti questi anni pieni di comprensioni che non sono concluse che non riesco a capire se amo amati fidanzati fidanzati forse amici o forse solo strane se amo amati fidanzati fidanzati forse amici o forse solo strane fidanzati 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 C'è solo persone che sanno cosa sia il rispetto Ci sono persone che sanno come sei fatto dentro Ci sono persone Angela De Gregorio Brava Angela, brava Angela E voglio fare un saluto a Carmine Mercogliano che ci ascolta sempre Ciao Carmine E invitiamo tutti coloro che ci ascoltano anche da altre fonti Oltre che da Radio Free Station direttamente Insomma c'è che esiste un'app che è scaricabile gratuitamente Sia per Android che per sistema iOS E appunto si chiama Radio Free Station Dove potete scaricarla e ascoltare Radio Free Station 24 ore su 24 Con tutti i programmi di Radio Free Station Bene andiamo avanti questa volta con un artista ancora una donna Anna Maria da Brescia Che ci fa ascoltare una cover Mi sei scoppiata dentro il cuore Buon ascolto Era solamente ieri sera Io parlavo con gli amici Scherzavamo tra di noi E tu, 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 tu sei arrivato Sei arrivato E allora tutto è cambiato per me Mi sei scoppiata dentro il cuore All'improvviso, all'improvviso, non so perché, non so perché, all'improvviso, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato come nessuno l'ha guardato mai. All'improvviso, all'improvviso, per te, ora, io non ho capito ancora, io non so come va a finire, quello che succederà. E tu, e tu, e tu, tu l'hai capito, l'hai capito, e allora tutto è cambiato per me. Mi sento piata dentro il cuore, all'improvviso, all'improvviso, non so perché, non so perché, all'improvviso, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato come nessuno l'ha guardato mai. Mi sento viva, all'improvviso, all'improvviso, per te. Sarà perché mi hai guardato come nessuno l'ha guardato mai. Mi sento viva, all'improvviso, per te. Applausi, applausi, ed era Anna Maria da Brescia con questa cover, mi sei scoppiata dentro il cuore. E continuiamo questa scaletta di artisti emergenti, in questa trasmissione che va in onda tutti i martedì dalle ore 17 alle ore 18, nonché il giovedì dalle ore 18 alle ore 19. Il Nico Caputo Show, lo show che dà voce agli artisti emergenti. E' la volta adesso di Tiziano Orecchio e che ci andiamo subito ad ascoltare un suo pezzo, Non chiedere. Buon ascolto. Fermo la coda del tempo, per allengarti negli occhi, per me sei un angelo, mi lasci un milico. Tu in questo tormento, scalda il mio sangue che c'era, morire ormai di te, è un fine avido. Tu non parlare, lasciami vai. Non chiedere. Non chiedere perché non c'è ragione dentro me. Non chiedere perché piacere, ora tu ci sei. E' un attimo, è splendido. Oppure mai. Non chiedere perché piacere, ora tu ci sei. E' un attimo, è splendido. Vi. 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 Buon ascolta. Qui. Vi. bravo bravo tiziano orecchio tiziano orecchio non chiedere e bene continuiamo la scaletta degli artisti emergenti abbiamo adesso una donna l'antonella mani in grasso che ci fa ascoltare una sua cover grande 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 buon ascolto i tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai sei peggio di un bambino capriccioso la vuoi sempre vinta tu sei un uomo più egoista e più potente che abbia conosciuto mai ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro in un attimo tu sei grande 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 come te sei grande solamente tu io vedo tutte quante le mie amiche sono tranquille più non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me ricevono regali e rose rosse per il loro compleanno dico sempre di sì non hanno mai problemi e sono convinte che la vita è tutta lì e invece no e invece no la vita è quella che tu dai a me in guerra tutti i giorni sono viva sono come piace a te ti odio poi ti odio poi ti amo poi ti odio poi ti odio poi ti odio e poi ti amo non lasciarmi mai tu sei grande 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 come te sei grande solamente tu sei grande solamente tu non lasciarmi mai tu non lasciarmi mai tu sei grande 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 come te sei grande solamente tu non lasciarmi mai tu sei grande 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 come te sei grande solamente tu sei grande solamente tu applausi 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 per Antonella Maningrasso che ci ha mandato questa canzone questa cover beh invitiamo anche la nostra carissima Nietta che Nietta anche tu insomma puoi cantare e mandarci qualche tuo file noi insomma lo faremo ad ascoltare comunque un saluto a Nietta che è entrata in questo momento nella nostra community invitiamo tutti voi che siete all'ascolto anche da altre fonti di scaricare l'app di Radio Free Station oppure andare direttamente sul sito Radio Free Station www.radiofreestation.com e interagire con noi attraverso la chat apposita di Radio Free Station il Nico Caputascio è lo show che da voce agli artisti emergenti e andiamo avanti questa volta con un altro artista Antonio Micera Perché ti amo perché ti amo e sta nascendo un mezzo sentimento dolce aria da inconsciente fa parte del tuo gioco assurdo girare intorno a te uno sguardo come sei pulita si risveglia dentro me il poeta per un attimo di libertà perché ti amo io non lo so ma stai sicura che non dormirei non dormirei e tu sorriderai pensando che con te nessuno mai ha nato come me volava in aria la mia giacca appena è chiusa la tua porta e tu mi hai visto mentre uscivi a salutarmi una altra volta perché ti amo io non lo so mai scontare piano di fondo agli occhi tuoi l'estate sembra sempre azzurra eppure ci sono luce e ombre come puoi lasciarmi oppure pensi come puoi tenermi dolce attimo di eternità perché ti amo io non lo so ma stai sicura che non dormirei volava in aria la mia giacca appena è chiusa la tua porta dicevi tu sei matto io non lo so ma ti amo e resto un po' sta ancora perché ti amo e stai sicura che non dormirei perché ti amo e andiamo avanti questa è la volta di Rosanna Romano che ci fa ascoltare Lili Cancino classica canzone napoletana buon ascolto a tutti e a te ora e io vi 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 te vi Grazie a tutti. 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 Andiamo avanti con la scaletta e questa è la volta di Marco Sciarretta, cantautore in terra di origine italiana, ovviamente milanese lui, attualmente vive in Spagna. Ci fa ascoltare la gioia di ridere. Buon ascolto a tutti su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Grazie a tutti. 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 Miriam Masciandaro con Ballo di luna. Buon ascolto. Vi ricordo che potete ascoltare la musica in una stereofonia andando su Radio Free Station sul sito della radio oppure scaricando l'app disponibile per tutti i sistemi operativi, sia Android che iOS. Quindi gratuitamente potete scaricata sul vostro telefonino, sulla vostra, insomma, se volete ovviamente, non siete obbligati, però è una radio che vi fa compagnia dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, con tanti bravissimi speakers e potete ascoltare musica di tutti i generi. Grazie a tutti. 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 Grazie per Miriam Masciandaro. Bene, continuiamo la scaletta di quest'oggi, martedì 12 gennaio 2021, secondo martedì dell'anno. Andiamo con un tema di luna, insomma parlando di luna, ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone che ci parla della luna. Questa luna che è stata poi tanto narrata nelle canzoni di tutti, insomma un po' di tutti i cantautori, i poeti. Beh, andiamo ad ascoltare Corrado Pugliatti con Notte di Luna Piena. Buon ascolto. Guarda la luna piena, questa notte serena, io la raggiungerò là, dove il mondo non arriva. Mi ricordo a tutti voi che ci ascoltate da Facebook, che siamo su Radio Free Station, in diretta, con questa trasmissione chiamata Nico Caputo Show, dove viene data voce agli artisti emergenti. Quindi se siete un artista, se sei un poeta, uno scrittore, un cantautore, un cantante, beh, insomma non esitate a contattarmi per un'intervista telefonica e far ascoltare i tuoi brani, le tue opere. Va bene? Allora, Nico Caputo Show, lo show che dà voce agli artisti emergenti. Chi vuole mandare, insomma, contatti, al nicocaputosound.gmail.com Questo momento in diretta su Radio Free Station, come ogni martedì dalle ore 17 alle ore 18, e ogni giovedì dalle ore 18 alle ore 19, sempre in diretta su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Stiamo ascoltando in questo momento Corrado Pugliatti, un siciliano, con questa canzone scritta da lui, sia testo che musica, Notte di luna piena. Insomma, tutti gli artisti che state ascoltando sono stati intervistati prima su questa radio, Radio Free Station, in questo programma, nel Nico Caputo Show. E dopo, ovviamente, essere stati intervistati, ci hanno mandato i loro pezzi, le loro canzoni, sia inedite o cover, e noi poi successivamente li facciamo di ascoltare durante le trasmissioni, durante tutto l'anno, ovviamente. Cerchiamo, insomma, di dare un po' una mano agli artisti che vogliono farsi conoscere, vogliono far conoscere le loro opere, i loro pezzi, le loro canzoni, e, appunto, ho cercato di creare questo canale che favorisce, appunto, la musica emergente e gli artisti emergenti. Oggi mi cade e calmerò il mare che ancora il cuore in tempesta. E, appunto, la musica emergente e gli artisti emergente, applausi, applausi per Corrado Pugliatti. Bravo, e con questa canzone intitolata Notte di Luna Piena. E continuiamo la scaletta di quest'oggi con altro artista, un ragazzo che ho intervistato la settimana scorsa. Lui si chiama Guerriero Marotta e ci fa... andiamo ad ascoltare un pezzo uscito da poco, qualche settimana fa, che si intitola Ti porterò. Buon ascolto a tutti. Buon ascolto a tutti. Buon ascolto a tutti. Cominciamo a parlare ma tu rimani così ferma Come se avessimo scoperto L'America Così ti porterò, ti porterò dove tu vorrai Poi ci ameremo come tu vorrai Poi ci porto fuori Dalla nostra gente Dai rimani qua così potrò amarti per l'eternità Dalla nostra gente Dalla nostra gente Per l'eternità Per l'eternità Per l'eternità E' arrivando l'estate Quindi ci vuole Ci vuole un brivido caldo Forse al nord fa ancora un po' freddo Ma al sud pure Ma c'è il freddo Però mi sembra che stanno iniziando a fare anche i bagnetti Dalla Grecia Beh andiamo a Concetti Moscarella Brivido caldo Brivido caldo Brivido caldo Quindi ci vediamo Niente Brivido caldo Bisplandam Tu sai, tu sai tu, tanto Viaggia, la metterità di me Viaggia, avvolta nella nostalgia di te Resta, la dolce terrenza Lascia, intanto che si ferma in te Occhi, negli occhi di me, da volte che vorrei Mani, si stringono sul cuore stanchi e fragili Tempo, pieno da chiamare fotografia La loro onesta In quelle lepie disperse d'affetto Siamo in diretta su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo Invitiamo a tutti voi che ci ascoltate da Facebook Di scaricare l'app disponibile per tutti i sistemi operativi Sia per Android che per iOS Gratuitamente ovviamente È un'app dove potete ascoltare Radio Free Station 24 ore al giorno Con tutti i suoi bei programmi Condotti da fantastici speaker Potete ascoltare le interviste con artisti famosi Le interviste fatte da me con artisti emergenti E divertirvi sulla chat C'è una chat apposita Dove potete incontrare persone E interagire con le dirette Che fanno tutti gli speaker In tempo reale Brava Laccetti Brava Laccetti Moscarella Con brivido caldo E sì, bella voce Cetti E volgiamo al termine Con l'ultima canzone di quest'oggi E ci andiamo ad ascoltare Gibo Se la mente non c'è Intanto preparati Perché tra poco arriverà Nietta Dalla Sicilia Con furore Con la sua Donna Rosalia Che è dentro di lei Buon ascolto Gibo Se la mente non c'è Quarant'anni da qui Ti ritrovo così Anche oggi fai botto Come nel 78 Ma il cervello non hai Ragionare non sai Sei ridicolo dai In tutti i discorsi che fai Siamo in tutti i discorsi che fai Se la mente non c'è Non cercare il francese La presunzione che hai Dimostrato lo sai Rappresenta per me Il ritratto di te Ma il giardallo non hai Siamo in diretta su Radio Free Station La radio degli italiani nel mondo Stiamo ascoltando Gibo Che è stato intervistato Qualche settimana fa Su appunto Radio Free Station In diretta Nel Nico Caputo Show Questo show condotto da me Nico Caputo E abbiamo intervistato Gibo Questo artista Siciliano Cantautore E Beh Lo stiamo ascoltando in diretta Su Radio Free Station Ascoltiamo ovviamente Tutti coloro Che ci mandano i pezzi E tutti coloro Che abbiamo intervistato Precedentemente Poi Gli faremo di ascoltare Sul Radio Free Station Quest'oggi La puntata Anche quest'oggi Stiamo avvolgendo al termine Il tempo passa Il tempo passa Scorre Velocemente Quando si sta bene insieme Ci si diverte Si ascolta Buona musica Beh Diamo voce Agli artisti emergenti Perché Insomma È bello Che Le opere Create Insomma Dagli artisti Vengano apprezzati Da tutti E quindi Siamo qui Per questo Sono qui Per questo Nico Caputo Show E se sei un artista Un autore Un compositore Un musicista Un poeta Uno scrittore Vorresti far conoscere Le tue opere Vorresti far conoscere Le tue performance E informare Dei tuoi spettacoli O delle tue ultime uscite Bene Allora Partecipa Al Nico Caputo Show Con un'intervista Telefonica In diretta Sul Radio Free Station La radio degli italiani Nel mondo Invia il materiale A contatti E contatti A Nico Caputo Sound Si si è con la O Nico Con la K Caputo S O N D Beh E Chioccielagmail.com Bene Vi aspetto E ci ritroviamo Giovedì prossimo Intanto Ascoltiamo Gibo E applausi E applausi Anche per Gibo Bene A questo punto Direi che Siamo giunti Al Capolino Anche quest'oggi E voglio salutare Tutti i radioascoltatori Di Radio Free Station Che ci ascoltano Direttamente Dall'app Di Radio Free Station O direttamente Dal sito O Dalle pagine Dalla pagina Facebook Di Radio Free Station Beh Saluto tutti coloro Che ci ascoltano Da altri canali O che ci hanno ascoltato Attraverso la diretta Che è stata fatta Su Radio Free Station Beh Che dirvi Vi saluto Tutti Ci ascoltiamo La prossima Con Nico Caputo Show Che arriverà Giovedì prossimo Dalle ore 18 Alle ore 19 Sul Radio Free Station E Andiamo ad ascoltarci Adesso In questo momento E subito dopo Di me Arriverà Nietta Con furore Dalla Sicilia E la sua Donna Rosalia Ciao a tutti E rimarrete In ascolto Di Radio Free Station La radio degli italiani Nel mondo Un saluto A tutto lo staff Di Radio Free Station La nostra direttrice Mirtilla E tutti 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 Grazie Agnetta Antony Che sono stati presenti Nella nostra community A Sabrina Che ci ascolta Sempre mentre lavora E insomma Tutti coloro Tutti 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 Veramente Anche coloro Che non ho nominato Ciao ciao Alla prossima Bye bye Radio Free Station Sempre più social Ci trovate su Facebook Twitter LinkedIn Instagram E Google Plus Radio Free Station Senza confini